Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Il capogruppo DC a comune di Avellino, Alberto Bilotta, è un giovane preparato, volenteroso e intellettualmente onesto, ma ha un limite oggettivo, la parziale memoria storica della politica cittadina e irpina. In un'intervista a Orticala egli ha detto che l'amministrazione Foti ha una stortura congenita, è nato a prescindere da Avellino. Ha perfettamente ragione. Qual è la parzialità mnemonica? È che nella genetica dell'amministrazione Foti il DNA politico è esattamente quello del partito e del capo carismatico del giovane Bilotta. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori